buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale youtube oggi parliamo di lavoro autonomo sapete perché perché a mio avviso la categoria degli imprenditori ad oggi in italia è vista come la peggior categoria del mondo e ahimè sono le persone che invece si fanno diciamo la verità si fanno un culo così imprenditori sono quelle persone che hanno deciso di essere capi di se stessi aprire un'attività un ristorante un negozio mettersi in proprio non avere capi ma lavorare in maniera autonoma quindi con partita iva con tutte le spese con tutti i rischi del caso eppure le persone che cercano il posto fisso che vogliono fare dipendenti vedono un imprenditore come un coglione esattamente le persone che decidono di lavorare in proprio sono viste male perché appunto si devono prendere dei rischi perché molto spesso vengono viste come persone che non pagano le tasse ma vi do un annuncio che vi stupirà gli imprenditori sono le persone che pagano più tasse in assoluto perché comunque è un rischio che si devono accollare loro devono pagare ogni mese delle cifre altissime ve lo garantisco avere la parità iva non è una cosa semplice essere il capo di se stesso garantisce libertà indipendenza è una scelta di vita ma non è una scelta facile quindi chi ha il privilegio di avere un posto fisso o chi lo cerca perché pensa appunto di di essere furbo perché è un lavoro migliore non c'è un lavoro migliore un lavoro peggiore ognuno deve scegliere la propria strada e giudicare gli altri per le loro scelte è come giudicare una persona per l'orientamento sessuale per la religione è un qualcosa di aberrante se una persona decide di fare una scelta ne paga i rischi ne paga le conseguenze per una scelta propria e ne paga le tasse e mi sembra assurdo che in un mondo in cui ad oggi non c'è lavoro le persone giudichino chi ha fatto scelte di vita diverse chi ha scelto il lavoro diverso chi ha scelto l'autonomia chi cerca di portare il pane in tavola con un nuovo tipo di lavoro comunque con un'attività diversa perché purtroppo se ci si fissa su un unico settore se tutti quanti vogliamo lavorare in un'unica azienda tutti vogliamo lavorare per amazon tutti vogliamo lavorare per la nasa tutti vogliamo fare gli astronauti non si può tutti quanti entrare in un unico settore lavorare tutti in un'unica azienda nel mondo bisogna diversificarsi e quindi c'è chi fa una scelta c'è chi fa il dottore c'è chi fa l'avvocato anche quelli sono liberi professionisti partita iva non hanno un capo dipende poi se sei dipendente di un ospedale di un ufficio comunque sia ognuno fa le sue scelte c'è chi sceglie di fare il giardiniere apre la partita iva e si mette a lavorare in proprio c'è chi decide di lavorare dentro quattro mura con un capo che gli urla otto ore al giorno sperando nel suo stipendio con le tasse pagate dal datore di lavoro però in questo qual è la bellezza del giudicare il lavoro altrui e definire gli imprenditori dei coglioni perché è questo che sta accadendo in italia con tutta la situazione che c'è con i negozi chiusi vedo le persone che cercano lavoro o che cercano una seconda in trattata economica perché loro lavorano gli basta che giudicano chi invece ha fatto una scelta di vita diversa ma è un rischio che uno corre a primo ristorante per un albergo è un rischio ma se quella cosa piace perché quella persona deve sentirsi giudicata da chi ha fatto una scelta di vita diversa chi fa il fotografo ho visto su un social un fotografo che veniva denigrato che gli dicevano che non pagava le tasse se tu sei libero professionista e apri la partita iva le tasse le paghi e le paghi anche care però un tipo di lavoro talmente diverso non presente nell'immaginario collettivo dei nostri nonni o genitori che molte persone sono cresciute non pensando che un certo lavoro sia un vero lavoro qual è un vero lavoro vero il lavoro è un servizio che si dà alla società che si fa a seguito del quale si riceve un compenso che sia una vendita un negozio una fioraia che vende i fiori guadagna dei soldi perché voi comprate sui fiori un avvocato che vi dà un suo servizio una prestazione voi lo pagate è un servizio che si dà alla comunità in cambio di denaro qualsiasi lavoro è lavoro perché altrimenti io dico sempre mi faccio una passeggiata al parco e non è lavoro quello oppure c'è chi fa le maratone viene pagato quindi giudicare il come le persone si guadagnano da vivere è veramente assurdo pensiamo a stare bene pensiamo alla salute e soprattutto rispettiamo le scelte altrui perché è questo che ci fa ammalare la mancanza di relazioni di umanità fra le persone ad oggi si ha paura di tutto io ho instaurato relazioni perfino con i computer parlo con amiche che stanno in lombardia in puia in romania in tutto il mondo e ridiamo e scherziamo e instauriamo dei rapporti di amicizia anche se siamo distanti e questa me fa bene mi fa stare bene quelle persone che si chiudono in sé arcigne che ce l'hanno col mondo con la politica con i vaccini ce l'hanno con tutti che non che hanno un lavoro ma non li soddisfa oppure non hanno il lavoro e allora il lavoro non c'è allora dobbiamo arrabbiarci che non trovano soluzioni le soluzioni ci sono siamo noi con il nostro atteggiamento che possiamo vederle avete le soluzioni di fronte agli occhi ma non le volete vedere e continuate ad essere cattivi nei confronti degli altri giudicate gli altri pensate alla vostra vita pensate a cercare ciò che vi fa stare bene trovate il vostro equilibrio e vedrete che non romperete più le balle agli altri ma sarete in pace con voi stessi sereni e in pace anche con gli altri quindi smettete di giudicare le scelte altrui i lavori altrui sento cose allucinanti anche qui su youtube ragazzine che fanno i tutorial che non conoscono certi lavori e ne parlano male prima informatevi prima di giudicare perché la diffamazione è un qualcosa di negativo e non bisogna mai giudicare il lavoro altrui le scelte di vita altrui ma rifletterci perché è questo che sta rovinando la nostra società quindi focalizzatevi su quello che vi fa stare bene e troverete la soluzione che vi calmerà che calmerà la nostra società che sta rovinando a livello proprio psicologico le persone quindi volete vivere bene cercate di avere il giusto atteggiamento cercate di fare quello che vi piace e di aprire la mente perché le soluzioni ci sono e giudicare le scelte altrui non è la soluzione giusta buona giornata buon lavoro e tanta pazienza a tutti